Gli ambientalisti di Taranto si oppongono al rilascio della nuova autorizzazione integrata ambientale per acciaierie d'Italia. Diverse associazioni hanno presentato le proprie osservazioni al Ministero dell'Ambiente. Il rischio è che questo accordi all'azienda la proroga della misura, a partire però da condizioni inaccettabili per la salute, spiega PeasLink, e anche poco trasparenti dal punto di vista dei contenuti. Il Ministero, prima di dare un'autorizzazione, dovrebbe valutare che questa è la prima volta che si sa che dando questa autorizzazione ci sarebbe un impatto sulla salute non accettabile. Anche in considerazione del fatto che le richieste sono non relative a tecnologie finalizzate alla decarbonizzazione, ma vengono sostanzialmente richieste le tecnologie tradizionali, quelle per cui si utilizza il carbone. Si prefigura addirittura di triplicare la produzione di carbon coke, di attivare anche l'alto forno 5. È chiaro che stiamo andando non verso una prospettiva di decarbonizzazione, ma viceversa stiamo andando verso una prospettiva di aumento della produzione con le tecnologie tra l'altro tradizionali e sapendo che questo potrà avere o potrebbe comunque avere un impatto molto negativo sulla salute. Ci sono dei file non pubblici? È la prima volta e questo aumenta il nostro sconcerto e ci pone diversi integrativi, perché i file dovrebbero essere tutti pubblici, ci sono alcuni file che noi non possiamo consultare e di cui non conosciamo neanche il contenuto, non c'è neanche un abstract. Ovviamente c'è un diritto da parte dell'azienda a custodire il segreto industriale, ma su quelle che sono le prestazioni delle tecnologie in termini ambientali, lì non ci dovrebbe essere nessun segreto industriale.